il libro di valentina petrini che è il cielo oltre le polveri storie tragedie e menzogne sull'ilva titolo lunghissimo non parla in realtà solo di taranto parla del mondo perché è il mondo intero che vive questo braccio di ferro un braccio di ferro insulso naturalmente tra salute e lavoro ecco basta sostituire quelle indagini epidemiologiche sull'inquinamento di taranto con gli studi rapporti del ipcc sul cambiamento climatico basta sostituire i governi italiani che hanno di fatto sempre di tutti i colori permesso all'ilva di continuare a funzionare con l'inerzia delle leadership mondiali che non stanno facendo niente per combattere il suo riscaldamento del pianeta come vedete le due cose si tengono allora valentina petrini innanzitutto questi due diritti salute e lavoro come si conciliano tu stessa citando rodotà dici che sono periodi in cui è un lusso avere il diritto alla salute sì allora il tema è molto complesso intanto penso che per anni noi giornalisti abbiamo posto alle persone comuni la domanda di come si concilia il diritto al lavoro con il diritto alla salute di fatto commettendo una grandissima violazione costituzionale perché non è una domanda che andrebbe posta alle persone comuni essendoci una carta costituzionale che li sancisce entrambi e non li vede e non diciamo li menziona mai in eh alternanza o diciamo in antitesi fra di loro il fatto stesso che si sia arrivati a doversi interrogare su come si conciliano vuol dire che ehm è saltato qualcosa che c'è stato un problema nel corso dei decenni di applicazione della carta costituzionale ehm io in questo libro affronto questo binomio tra questi due diritti fondamentali partendo dal caso Taranto ma in un certo senso cercando di lanciare un campanello d'allarme a tutti coloro che lo leggeranno che comunque vorranno diciamo immergersi eh in in questa problematica perché eh quanto è avvenuto negli ultimi decenni in Italia e soprattutto quanto è avvenuto alla luce della sentenza della corte costituzionale che dopo l'esplosione dell'inchiesta ambiente svenduto e anche il braccio di ferro tra magistratura e eh Stato ha sancito che fosse necessario operare un bilanciamento tra i diritti perché il diritto alla salute non poteva essere considerato un diritto tiranno rispetto ad altri ecco questo è qualcosa che riguarda tutti i lavoratori di qualsiasi categoria di qualsiasi settore sociale e mai come in questi ultimi due anni di pandemia ci siamo resi conto di quanto il diritto alla salute sia un diritto primario fondamentale che ha necessità di avere una corsia preferenziale quindi questo è un libro che parte dal caso Taranto ma è un libro che serve soprattutto per portare fuori dai confini tarantini il caso Taranto e porlo come una questione globale dico di più non solo nazionale ma internazionale perché la sfida che noi oggi abbiamo davanti nel riscrivere i sistemi economici presenti e futuri parte proprio dal dal presupposto di come saper riportare al centro il diritto alla salute e di non sacrificarlo più in funzione di interessi economici che abbiamo visto creano delle distorsioni sociali. Beh speriamo che in molti diano ascolto quello che sta dicendo Valentina Petrini perché ne abbiamo davvero bisogno un'altra cosa che ho notato del tuo libro è che tu non assolvi nessuno non assolvi i manager delle industrie anche quelle pubbliche naturalmente che hanno permesso in continuazione l'inquinamento no nella produzione dell'acciaio eh i sindacalisti che alcune volte si sono girati dall'altra parte i politici che sono stati addirittura collusi cioè non esce nessuno pulito. No non assolvo nessuno e lo confermo eh non assolvo nessuno perché i fatti che io documento e ricostruisco dagli anni almeno dagli anni settanta in poi anche se nel libro troverete fonti che risalgono anche al millenovecentocinquantaquattro eh dimostrano come eh la storia sia costellata di documentazioni che dimostravano quanto fosse incompatibile un impianto di quelle dimensioni con un centro abitato praticamente attaccato le case le finestre delle persone praticamente attaccate alla produzione industriale e non assolvo nessuno perché eh in Italia ci sono delle leggi che sanciscono per esempio i limiti delle emissioni con consentite agli impianti industriali. Basta pensare che l'Organizzazione Mondiale della Sanità per esempio prevede dei limiti massimi di emissione che sono di gran lunga inferiori a quelli italiani ed europei. Voglio leggervi il dato perché è sconvolgente cioè nel duemiladodici l'Organizzazione Mondiale della Sanità aveva come valore guida annuale da non superare dieci microgrammi al metro cubo per quanto riguarda il PM due virgola cinque che è una polvere sottile che oggi sappiamo essere eh cancerogena e pericolosissima per la salute eh dell'uomo. Bene eh l'Unione Europea e quindi anche l'Italia ha venticinque. Capite qual è il rapporto di quanto è sostenibile da un punto di vista sanitario di quanto è consentito dagli stati. Quindi quando molti grossi gruppi industriali compreso l'ex Silva dei Riva diceva di essere a norma di legge spesso lo diceva anche perché era effettivamente una una legge che gli garantiva di poter inquinare senza incorrere in in nessun reato. Poi ci sono diciamo le strutture sociali che sono i partiti che sono i sindacati che avrebbero negli anni dovuto eh sapere elaborare un sistema economico alternativo e soprattutto non arrivare al punto estremo di dover mettere i lavoratori di fronte all'assurdo bivio di dover scegliere tra il morire di lavoro e il morire di salute e quindi tutto ciò che dico separando i fatti dalle opinioni eh è ben documentato e sono diciamo pronta a rispondere a qualsiasi critica insomma in senso contrario. Spesso i capitoli del tuo libro partono dai lutti purtroppo è inevitabile in una storia come quella di Taranto penso a Lorenzo un bambino che ha subito credo 28 operazioni in un anno morto piccolissimo o penso ad Alessandro questo operaio investito da una fiammata che ha bruciato tutto il suo corpo tranne due dita pensate a che tragedia immane ecco però sembra prevalere complessivamente una sorta di fatalismo può succedere. Sì purtroppo allora io metto le storie di Lorenzo e le storie di operai come Alessandro Morricella o Francesco Zaccaria nella stessa struttura narrativa perché sono diciamo storie di un unico sistema sociale economico ehm che alla fine diciamo ha prodotto delle delle distorsioni delle devianze e sono storie molto diverse fra di loro perché eh Lorenzo è la storia di un bambino eh che forse non lo sappiamo perché insomma stabilire il nesso causale in un processo è veramente molto complesso e nel suo caso non è ancora stato fatto però forse potrebbe essere eh morto perché il suo tumore è stato causato da un'esposizione addirittura dei genitori a delle sostanze inquinanti ehm cancerogene e Alessandro Morricella e Francesco Zaccaria invece sono il prodotto eh di quel sistema produci consuma e lavora fino a che eh l'ultima goccia di sudore eh non sia stata diciamo prodotta e sono eh parte di un sistema economico eh che ancora una volta non ci parla solo di Taranto ma ci parla del dramma di queste morti sul lavoro che noi ci ostiniamo a chiamare morti bianche quando di bianche non hanno assolutamente nulla e e io ci tenevo profondamente a tenere diciamo tutti questi personaggi come protagonisti su un unico filo narrativo perché dovremmo smetterla di trattare il tema dell'inquinamento e del rapporto tra l'inquinamento e la salute come un tema ambientalista è un tema socio economico che attiene al al tipo di società che noi abbiamo costruito e dal quale fatichiamo a separarci eh nonostante insomma tutti gli effetti criminali e criminogeni siano sotto gli occhi di tutti quanti. Però prevale appunto il fatalismo secondo te in una città come Taranto? Ma guarda eh il fatalismo è stato io ricordo nei giorni in cui Francesco Zaccaria morì eh in cui diciamo lo Stato si affrettava nelle diverse figure a ehm tacciarla come una tragedia perché in fide conti sulla città si era abbattuto un uragano quindi cosa cosa può all'uomo nei confronti di un uragano? Questo è lo scusa ricordo che lavorava su una gru che è letteralmente poi caduta in mare. Lavorava su una gru bravissimo che a causa poi diciamo di un di un di un ultimo colpo di vento molto forte si è staccata il gancio d'acciaio si è staccata ed è finita in fondo al mare e il papà di Francesco Zaccaria ha dovuto lottare molto perché la morte di suo figlio non fosse archiviata come una morte dettata da una diciamo eh catastrofe eh naturale e alla fine eh è stato anche grazie a lui che si è aperto un processo che è arrivato eh ad una sentenza di primo grado che ha stabilito che invece quella gru non aveva subito le manutenzioni dovute addirittura aveva dei difetti di funzionamento che non avevano fatto scattare quei sistemi diciamo di bloccaggio che sono fondamentali in macchinari eh così complessi e che devono svolgere delle operazioni di carico e scarico eh costanti e continue. Ehm spesso ci si nasconde dietro il fatalismo per non voler guardare la realtà e per questo che io faccio una minuziosa ricostruzione anche delle perizie che sono state diciamo depositate agli atti di questo processo per di questi processi perché poi nei processi si può arrivare a delle condanne o a delle assoluzioni ma le perizie restano degli atti scientifici di fronte ai quali non bisognerebbe mai fare un passo indietro e per primo lo Stato dovrebbe assumerle come faro guida per riparare agli errori commessi e invece nel caso di quella gru è stata poi dopo riparata e ci sono stati altri due incidenti e ahimè addirittura anche un altro morto sulla stessa gru in circostanze più o meno analoghe dopo Francesco Zaccaria. A proposito di atti scientifici Valentina Petrini nel suo libro eh innanzitutto dice che guardate che a volte non si riescono neppure a finanziare delle indagini epidemiologiche serie dall'altra parte quelle che vengono finanziate che si possono fare beh dimostrano o meglio dimostrerebbero che a Taranto si respira un cocktail micidiale di polveri sostanze inquinanti ed altro però nel capitolo finale se che ricordo bene eh tu dici che i consulenti di Riva la famiglia che eh ha posseduto fino a qualche anno fa l'ILVA sembrano smontare queste evidenze sulla base di che cosa? Commissionano delle consulenze di parte a degli altri diciamo esperti che eh depositano diciamo il la loro analisi il loro punto di vista secondo il quale in realtà la qualità dell'aria di Taranto è eccelsa al punto tale da fare il paragone con la città eh di Milano e che smontano anche diciamo ehm il numero di decessi invece individuato dai periti nominati dalla GIP Patrizia Totisco ma guarda il punto è questo in ambito processuale è legittimo che accusa e difesa eh l'ottino fino all'ultimo colpo possibile è la democrazia ed è giusto anche che in quanto diciamo amanti e appassionati di questa nostra democrazia si accettino poi gli esiti processuali intanto in primo grado c'è stata una sentenza di condanna e quindi questa sentenza di condanna ha invece sancito la bontà eh dell'impianto investigativo eh dei magistrati della procura di Taranto che hanno dato vita al processo ambiente svenduto e che quindi hanno presentato le prove del disastro colposo e doloso vedremo come andrà avanti questo processo però che faccio io nel libro? Nel libro cerco di estrapolare le diciamo nozioni veramente diciamo scientifiche eh dal contesto di di lotta di un'aula di tribunale e e racconto alle persone che esistono diciamo pubblicazioni internazionali che parlano del rapporto tra inquinamento e salute a Taranto e non solo eh in Italia c'è un'altra città celebre eh per aver avuto un percorso simile che è Brescia ehm io intervisto eh il professor Roberto Lucchini che è un luminare che oggi vive in America ma che è Bresciano e di origini tarantine mh scopro il paradosso che gli americani da anni finanziano ricerche in Italia in città come Brescia e Taranto perché le considerano due campi di studio fondamentali per le decisioni da prendere in casa loro quindi noi ci troviamo al paradosso di avere il continente americano che elargisce eh miliardi di dollari eh per studiare il rapporto tra inquinamento e salute attenzione non solo in relazione al tumore ma anche in relazione a tutta una serie di nuove patologie come per esempio i disturbi del neuro del neurosviluppo infantile il diabete le malattie cardiorespiratorie eh gli effetti sul quoziente intellettivo dei bambini insomma tutte ricerche importantissime che hanno bisogno di quella benzina eh che si chiama poi anche prevenzione per mettere in sicurezza le popolazioni bene il paradosso è che eh esistono paesi come l'America come il Canada ma anche insomma nella nostra democraticissima Europa in Belgio sono stati condotti studi importantissimi con campioni molto ampi che prendono molto in considerazione nell'emergenza inquinamento salute considerandola la nostra nuova pandemia perché questo è e questo il mio libro cerca di fare urlandolo con forza prima che sia troppo tardi noi salutiamo Valentina Petrini eh con un'ultima domanda il festival dei diritti umani quest'anno si occupa di diritto alla salute beh tu riesci a scrivere anche quanto ci costa far ammalare tutte queste persone e quali sono i profitti che le imprese continuano a fare? Guarda io cercando documenti eh ho scoperto ho trovato questa 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 statistica fatta insomma ormai nel duemila undici ehm dove praticamente si cercava di stimare l'impatto sanitario che ciascun impianto industriale aveva eh in Europa quindi tenendo in considerazione anche i ricoveri eh diciamo eh i vari percorsi di cura eh e anche insomma purtroppo i decessi bene eh sono dati che oggi insomma probabilmente potremmo considerare da aggiornare perché sono passati già undici anni da quando queste stime sono state fatte eh però ecco sono dati che ci raccontano di milioni di euro che vanno ogni anno per curare patologie legate al rapporto eh tra inquinamento e salute che non vengono assolutamente menzionate eh nelle varie scelte di politica economica eh che vengono fatto fammi vengono fatte fammi aggiungere che c'è una categoria anzi due categorie più di tutti che ehm nel festival dei diritti umani secondo me vanno menzionati menzionate che sono i bambini che ehm eh subiscono sulla loro pelle gli effetti di un'esposizione all'inquinamento senza deciderlo molto spesso quando sono ancora nel grembo della madre perché è ormai dimostrato da un punto di vista scientifico che diciamo l'assimilazione da parte materna e non solo anche paterna di determinate sostanze può essere ehm trasferita addirittura durante la gestazione e e le persone povere che sono poi quelle che vivono nei quartieri più a ridosso dei grossi e agglomerati industriali o che magari hanno diciamo le case su le grosse tangenziali e che quindi diciamo aprono le finestre e respirano l'area dei tubi di scarico delle macchine eh e che quindi non possono permettersi le ville nel verde eh o le cure private quando il sistema sanitario nazionale non è in grado di assorbire tutte le loro richieste. Ecco l'emergenza inquinamento e salute è anche una grandissima fotografia della diseguaglianza sociale che attanaglia la nostra eh il nostro paese ma in realtà eh le nostre società e quindi eh guardarle fotografarle e riscrivere le regole economiche in funzione di una sostenibilità e di una riconversione ecologica significa anche mettere mano a queste diseguaglianze e ridurre questa maledetta forbice forbice sociale tra ricchi e poveri.